Nel palazzo di Piazza del Gesù, Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana, presieduto da De Gasperi con accanto Gonella. Tra i presenti, Gronchi, il sottosegretario Giorgio Tupini, l'onorevole Spataro, Andreotti il senatore Tupini, l'onorevole Cingolani e Scelba, che nella giornata conclusiva. L'onorevole Pastore, risultati De Gasperi, eletto segretario del partito, solidarietà democristiana al governo Pella.